Il senso di questo incontro è ricordare questi dieci anni di amicizia tra la diocese di Frosinone e la diocese di Niundo in Ruanda. Io sono stato con una delegazione, con il direttore della Caritas e altri, proprio per visitare i luoghi che noi in questi anni abbiamo sostenuto, con un sanatrofio degli ospedali, alcune case di vedove perché il genocidio ha prodotto tante donne che hanno perso tutto e sono rimaste vedove. In questi anni devo dire che la diocese ha aiutato a ritrovare questa parte, tra l'altro difficile perché è vicino a Goma, in Pomo, quindi è ripresa la guerra. Ha aiutato a ritrovare la speranza a tanta gente, cominciando dai bambini, aiutando nell'educazione ma anche attraverso un accordo con l'ASL e con dei medici che vanno periodicamente a visitare i bambini e anche i degenti di alcuni ospedali ad aiutare nel campo della sanità che credo che sia un aspetto molto importante per lo sviluppo di un paese.